Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara. L'estate meteorologica si avvia ormai sul viale del tramonto, infatti ricordiamo che si conclude il 31 agosto a differenza di quella astronomica, ma avrà ancora tanto da dire sull'Italia, perché infatti pur non essendo previste ondate di calore significative, il bel tempo dovrebbe prevalere nei prossimi giorni grazie alla presenza dell'alta pressione dell'Azzorre con una componente subtropicale che comunque rimarrà defilata sull'Europa occidentale. Nella sostanza invece avremo una circolazione spesso un pochino depressionaria sull'Europa orientale, questo potrà favorire qua anche il pusso settentrionale sull'Italia, fuoriero di qualche rovescio temporale soprattutto nelle ore pomeridiane e sul comparto alpino d'Appenninico, mentre su coste e pianure saranno più frequenti i momenti soleggiati e per l'appunto con caldo nella norma. Andando oltre, siamo intorno al 25-26 agosto, vedete come l'alta pressione proverà temporaneamente a estendersi anche sull'Europa nord-orientale, ma si tratterà di un ponte anticiclonico abbastanza debole, infatti qui dovrebbe già venire insediato o spezzato ben presto dalle correnti atlantiche, quanto basta tuttavia per richiamare nei bassi strati un po' di correnti da nord-est sull'Italia, responsabile ancora di qualche spunto instabile soprattutto al centro-sud e soprattutto nelle ore pomeridiano-serali, ma comunque non stiamo parlando di maltempo ma di fenomeni temporaleschi del tutto normali in una fase tardo-estiva e alternati a delle belle parentesi soleggiate. Dando uno sguardo infine verso fine mese, notiamo come invece il flusso atlantico più instabile potrebbe abbassarsi leggermente di latitudine, favorendo un tempo maggiormente instabile sull'Europa centrale, coadiuvato da un ritiro dell'alta pressione dell'Azore verso ovest, tempo instabile che potrebbe interessare a tratti anche l'Italia con qualche acquazzone temporale, questa volta di passaggio da ovest verso est, ma anche qui si tratta di eventuali peggioramenti assai brevi e con ancora prevalenza di tempo soleggiato e caldo nella norma. Bene, per adesso mi fermo qui e per tutti gli ulteriori aggiornamenti consultate il portale trebimetro.com